Un'isola antica creata da Dio l'ultimo giorno, quando prima di riposarsi dalle fatiche della creazione gettò un pugno di terra in mezzo al Mediterraneo, lo calpestò col piede dandogli la sua forma caratteristica. Inizia con questo mito sull'origine della Sardegna, il film L'ultimo pugno di terra, del regista sassarese Fiorenzo Serra, proiettato ieri a Nuoro nel Teatro Eliseo, un'opera che è stata restaurata per iniziativa dalla Società Umanitaria Cineteca Sarda, che ne ha affidato il compito alla Cineteca Nazionale di Bologna. La serata è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Intermezzo, il Comune di Nuoro e il Maestrale. Concepito dalla regione come documentario per esaltare il piano di rinascita, che avrebbe dovuto far uscire la Sardegna dalla retratezza secolare, in realtà il film divenne un ritratto spietato della difficile realtà in cui si trovava l'isola. Con spirito documentalistico e grazie al supporto di autori quali Manlio Brigaglia, Antonio Piglia, Rubbe Pepisano, il regista sassarese ha cristallizzato la società sarda dei primi anni Sessanta. Cinque i temi, la realtà metropolitana, la pastorizia, le miniere del Sulcis, i pescatori di Cabras e i sardi che emigrano. Le immagini sono eloquenti, una società preindustriale in cui la pastorizia si svolge con ritmi di duemila anni prima. Pastori che seguono costumi antichi e compiono gesti tramandati da generazioni. Stesso discorso per la vita quotidiana con la cottura del pane carasau da parte delle donne. Non è più moderna Carbonia con i suoi minatori e le lotte sindacali. In pieno medioevo invece si trova allo stagno di Cabras e con i pescatori in stato quasi di suddittanza nei confronti dei padroni. Le immagini raccontano anche Nuoro con la stazione dei pullman dei giardini che testimoniano la partenza degli emigrati. Proprio quello che avrebbe dovuto impedire il piano di rinascita. Ma racconto che fece dalla Sardegna a Fiorenzo Serra non più a quella regione che decise di smembrare il film in brevi documentari. Da qui la difficoltà della società umanitaria nel ricostruire filologicamente il film che è stato riportato alla versione originale. Una testimonianza straordinaria di come eravamo 50 anni fa e dei progressi che con fatica e difficoltà la Sardegna comunque ha fatto.